Bene ragazzi, qui di Dojimanti con Party of Sin Scusate per la lunga attesa che c'è stata per questa parte Ma dove dovevo rifarmi tutto il primo pezzo Perché non ha un sistema di salvataggi in mezzo al livello Quindi dovevo trovare un giorno in cui potevo perdere un po' di tempo prima Rifare il livello e poi andare avanti Ce l'ho fatta, quindi vabbè, partiamo Allora, spostiamo il cursore che dà fastidio Qua ci vuole l'Avarizia Che poi in verità questa è l'Invidia Quindi ho già sbagliato Ok, questo qua funziona in questo modo Andiamo a raccogliere questa Che non so cosa serve Ah, sono le vite forse No, vabbè, chi se ne frega comunque Questo gioco è stato apprezzatissimo Io lo sto amando perché è davvero stupendo E fra l'altro è secondo me davvero bellissimo Perché è davvero divertente, intelligente E molto molto particolare E anche originale, oserei dire Allora, queste torce sono da accendere Oh mio dio, è geniale Ora uso Avarizia No, 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 perché? Uh, quasi Vabbè, dai Ah, ma ok, lo fa in costante, ok? Ora usiamo la gola No, ho detto la gola Mangiamoci questo Mettiamolo qua sul pulsante Non lì Ho detto sul pulsante Madonna, quanto è bello sto gioco ragazzi Quanto è geniale Livello completato Boom A un minuto tra l'altro Ok Mele, tre mele su quattro Avarizia Ci mancano Lossuri Superbia E acidia Wow Ok B continua Negozio Qui puoi usare le mene verdi Per potenziare i peccati E sbloccare i trucchi Potenzialmente si possono attivare E disattivare Vabbè, questo è ovvio Buon mio Dio Allora, vediamo un po' Io, 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 tre Tutti sti qua della fila sotto costano cinque Mentre quelli della fila sopra due Questo cos'è? Ok, questi sono cinque Questo cos'è? Questo c'è una testa grossa Ah, questo è il trucchio, ok Allora Ahah Io prenderei questa Eh, raggio laser di via Vabbè, no, facciamo così Aspettiamo ancora un po', va Aspettiamo ancora un po' Eh, avventura lb Questo Secondo punto Evasione Stiamo tentando di evadere quindi dall'inferno, ragazzi Quelle erano le segrete Ora tocca al Al pezzo ambientato Appunto Qua Ovvero Mentre tentiamo di scappare Vediamo se ce la facciamo adappatemi in questo modo Ebbene, sì, ragazzi Ce la Ce la Stiamo anche facendo Molto lentamente Perché il suo raggio fa schifo Quindi poi lo devo potenziare Ok, le mele rosse Eh, ridanno salute Merda Qui è meglio usare bola Così almeno ce la possiamo mangiare Per venderci la vita Questa qua la voglio Allora Eh, orbene Cosa si fa adesso? Oh, merda Levati, levati, levati Mangiatelo, mangiatelo 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 Ok, perfetto E si apre la porta Arena completata Perfetto Oh mio Dio Questo è Superbia Sì Vediamo un po' cosa fa Superbia Tieni per Mute Vabbè, sì, lo so Questo qua, lo so Ehm Eccolo lì Cosa fa Superbia? No Wow Ah, lui attacca No Vabbè, anche lui spacca le porte, immagino No Cosa ha di speciale quest'uomo? Vabbè, chi se ne frega Tanto qua ci vuole Ira Boom Ehm Boh Non so voi, ma io adoro sto gioco Premiere B Ah, ok Poi possiamo sfruttare quelle Quell'attacco per il salto lungo È geniale, porca puttana È Quanto cazzo è geniale sto gioco Ok Ah, comunque qua Ehm In questi primi livelli Dell'inferno è ancora un tutorial Poi credo che andrà A Intensificarsi anche come Anche come Enigmi il gioco Ah, no, ok Lo Devo colpire Io Lo stavo già cercando Oh, la prima ragazzi Madonna Ma quanto è bello Dovevo È geniale Cioè Scusate Ripeto sempre Ma Sapete che io I giochi Li gioco per la Prima volta Con voi in video E quando uno Prova un gioco nuovo Che gli piace È È È gasato Ragazzi Cioè È gasato È ovvio che sia gasato uno Andiamo di colpire questa Boom Madonna che mira No, scherzo Credo che questo sia Dizzy standard Che vada a finire lì Merda Ci vuole gola Ci vuole gola Gola, gola, gola Mangialo Vieni qua Ok, è andato Intanto mi Ricarico un po' di vita Perfetto Me ne sono ricaricato un po' Con l'avarizia Ci andiamo a prendere Poi da fare Voila Quanto è bello Ok Comunque Ci potevo arrivare anche a piedi È solamente che farlo così È troppo Troppo Più fico Scusate Ma è vero Questo What's up Due Memelle rosse Addirittura Questa cos'è? Ah ok Mi sa che ci vuole Lussuria qua Ed è lussuria immagino Sì ok Era rossa Con i cuori RB cosa fa? Dov'è? Eccola lì No, sbagliato Wow Wow Fa le nuvolette Carino E così C'ha la frusta È geniale Porca puttana Ragazzi Ok Madonna Dove lo sta a fare RB cosa fa? Uh oddio Li posso fare innamorare Subito Andiamo Wow Ma è geniale Porca puttana Cuore 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 RT Fa in posto RT Ok Scusate Che ero messo Malissimo Per fare RT Ok Con lei È ancora di più Accentuato L'elemento platforme Ora abbiamo Accidia Che dorme Ah ok Rallenta gli oggetti Accidia È ovvio Minchia È vero È geniale Cazzo Vai Wow Ah ok Questo qui Anche Immagino No Sbagliato Scusatemi Scusate Vai Voilà Ok Anche voi L'alento Stupidi Umani Con cosa cazzo Attacca lei Cosa vuoi fare Ma cosa vuoi fare Mi chiamò L'ho anche mancato E mi stanno anche Massacrando gola Vieni il mio soccorso Gola mangia Mangia Telo Fantastico Vai 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 Ma che abbiamo un cuore Abbiamo Io per questi qua Amo Usare Amico Ma c'è uno qua Morto Io per questi pezzi Qua un po' più Platform Amusare questo qua Perché mi sembra un po' più agile Ma non credo che Cambi in verità Però aspettate Ah è vero Posso Posso Rallentarli adesso Giusto Quindi tu Fermati qua Ma no Mi è caduto Stai fermo lì No 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 Merda Bastardo Vabbè Mi se ne frega Si rifà Cos'è quella scia Ogni tanto che compare Ah no Aspettate È vero Perché ora Ho cambiato il giro Non è neanche servito Avete visto Siamo a Ok Direi che Eh Sì Direi che forse Magari Riesco anche a finire Il livello Boh Ah questo cosa fa Quello fa muovere Quello Eh Ok Allora Qua Intanto Prendiamo gola Eh no Però come è possibile Prendiamo lei Intanto vediamo Cosa fa quello Ok Ho aperto le quattro torce Ho acceso le quattro torce Aha Qua ci vuole Lossuria Però aspetta È sempre troppo alto Ok Ah aspettate La possiamo usare Merda Preso Ah beh beh Mi chiamano Se non ci riesco Ad arrivare lì Ah Si può Raccogliere con lui No C'è la c'è Riva secondo voi Gola Vediamo un po' Ah no Però aspettate Ci posso arrivare Con superbia Vediamo No Ah Vediamo un po' Allora Dammi un po' A fare Merda Ah Ho capito 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 Tranquillo Ho capito tutto Allora Dammi un po' Minchia È impossibile Prendere la cilia Rallentalo Te Schiaccialo Schiaccialo Ho detto Saliamoci Con tanta calma E ci abbiamo fatta Abbiamo gola Abbiamo il Cubetto di portal Perché è uguale Va bene Mettiamolo qua No Non qua Ma qua In modo tale Che si possa salire Usiamo Superbia Voilà Cioè non superbia Non superbia Scusate Lussuria Però qua Il viaggio è troppo lungo Quindi possiamo usare Questo Però Magari in maniera un po' Più Efficiente Ok Perché non me lo fa mirare Merda Come cazzo c'è arrivo lì Ah è vero Il salto lungo Madonna Che bello Sto gioco Ok C'è ancora sto pezzo Quindi stopo qua Ci vediamo nella prossima parte Asciate un mi piace Un commento Diventate fan solo Fan pesi Faccio stup Ma ragazzi Anzi no Perché poi Sforcio nell'altro livello Quindi è meglio Se finisco qua Ok Scusate per il fail Assurdo Ma quanti sono? Ma è bello che Che si Che si combattono Tra loro Perché comunque sono Si angeli Si a demoni Quindi E anche Normale Come cosa Che credo che a questo punto Mi è convincontato Perché c'è pieno di Nemici da mangiarsi qua Ok Adesso Vi invitiamo di Tagliarci un po' Tutti sti scassapalle Prendilo e portalo Portamelo Eccolo Portami a chi fratello Eccolo Ok Ho ucciso al contatto Venite qua Oh 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 mio dio Ah qua ci vuole la tipa Ok Raggio della madonna Ma cosa? Ah ah Atteni attenzione qua Attenzione a te Cosa vuoi farli dal balcone? Ok adesso Come ci riprendiamo Questi questi affari qua? Non possiamo Boh Vabbè intanto usiamo Lei per accendere ste candele Fatto Ora Per arrivare a Per prendere quegli affari lì? Non ho idea Ah aspettate Là forse si può usare Si Si è ok E qua si può usare lui Ma la? Boh Vabbè Che se ne frega Suppongo che abbiamo finito il livello Si? Quindi ci vediamo nella prossima parte Lasciate un mi piace Un commento Di cui vi è diventato a fare Sua fanpage E iscrivetevi su youtube Bye ragazzi Ciao